si può andare bene benvenute e benvenuti a questa nuova puntata di zoom in organizzata dal gruppo di ricerca di arpa si an icon è un grande piacere oggi ricevere bruno di marino docente all'accademia di belle arti di frosinone ci parlerà del suo recente libro nel centro del quadro per una teoria dell'arte immersiva dal mito della caverna al vr alla realtà virtuale pubblicato per le edizioni estetica nel 2021 è un testo che incrocia tantissime delle piste di indagini che stiamo seguendo all'interno del gruppo an icon ma al di là di quello che facciamo noi penso che sia un testo molto importante perché tocca delle questioni che ci riguardano molto da vicino oggi nella produzione nella ricezione delle immagini ma che come dice appunto il sottotitolo di questo libro dal mito della caverna hanno dietro alle spalle una storia millenaria sono molto contento bruno che tu abbia accettato il nostro invito lascio subito la parola a giancarlo grossi che sarà il moderatore di questo nostro incontro grazie a giancarlo grazie a bruno e grazie a tutti grazie a voi ascoltarvi grazie siamo molto felici di avere oggi qui con noi bruno di marino di marino che insegna teoria di mass media presso l'accademia di belle arti di frosinone e diciamo le cui ricerche riguardano l'intersezione tra le arti e anche le culture mediali e soprattutto declinate in diversi ambiti dal video al sonoro fino all'immersività di cui parla questo questo testo che presentiamo uno è diciamo è uno studio sommilitante che come come critico ha lavorato anche per alias che il supplemento culturale del manifesto che apprezzo molto e ha lavorato anche come consulente per la raro video ha curato diversi festival ed esibizioni soprattutto dedicati a temi come il cinema sperimentale e underground ma anche il cinema d'animazione ha pubblicato diversi libri molto importanti ne ricordo solo alcuni sguardo in conscio azione cinema sperimentale e underground a roma per l'ithos interferenze dello sguardo la sperimentazione audiovisiva tra analogico digitale che è uscito invece per bulzoni nel 2002 pose in movimento fotografie cinema per bollati boringhieri il libro molto interessante hard media la pornografia e le arti visive nel cinema nel web che è uscito per john enlevi nel 2013 e diciamo quasi in anticipo rispetto alcune da alcune tematiche di cui parleremo oggi oltre i bordi dello schermo conversazioni con i maestri della sperimentazione audiovisiva uscito per manifesto libri nel 2017 prima di questo ultimo libro dedicato all'immersività segnalo anche segni sonni suoni il music video da david bowie a lady gaga siamo veramente felici di averti con noi per aprire un dibattito sui temi che ci sono molto cari in particolar modo questa archeologia dell'immagine immersiva che tu delinea attraverso diverse figure che vanno dal sogno al labirinto alla caverna che poi ha una sua potente centralità all'interno del protesto e sono felicissimo di lasciarvi la parola grazie bruno sono io che ringrazio voi sia per l'invito che per questa lunga presentazione sono sempre in imbarazzo quando vengono diciamo elencate le mie pubblicazioni e vabbè a suo punto ne aggiungo però un'ultima che qualche modo anche a che fare con l'immersività che è questa mostra che ho curato su michele sambin che tra l'altro si è conclusa ieri al museo castromediano e diciamo che questo progetto su sambin un po gli rende in qualche modo giustizia perché lui è uno dei pionieri della sperimentazione video in italia e arrivato negli anni settanta ed ha inventato tra l'altro una un dispositivo particolare che il video loop che all'epoca poi ha sperimentato fino a un certo punto ma che oggi con il digitale ha ripreso in mano per cui quella quella ricerca del video loop l'ha poi diciamo aggiornata nell'era appunto del digitale oggi tra l'altro era qualcosa anche molto materico praticamente questo video nastro perché all'epoca c'erano questi open reel che praticamente passa da un registratore che registra un altro che rilegge e poi rientra un'altra volta nel registratore che il regista e quindi si crea appunto un anello e in questo modo lui fa proprio una sperimentazione sul sulle potenzialità del dispositivo secondo me in un modo addirittura perfino più avanzato di quello che nei primi anni settanta avevano fatto nao ma ne altri con le installazioni cctv quindi a circuito chiuso sullo scarto temporale e quindi niente volevo iniziare solo queste due cose sul sambini di cui poi tra l'altro io non io non tratto neanche nel libro nel libro mi soffermo invece come ha detto giancarlo cercato poi forse anche pletoricamente di trattare un po tanti temi anche perché mi sembrava che sotto diciamo legida sotto il segno dell'immersività poi si sono sempre collegate un'infinità di esperienze ora è chiaro che io ho cercato di avere un approccio storico cronologico e perché parto poi dalle dagli affreschi delle grotte di show vedi 36 mila anni fa quindi pendenti quindi questo fatto che non che non ci si limita solo a dipingere su una parete liscia ma anche su questi spuntoni di roccia e per cui si crea una tridimensionalità dell'immagine fino a arrivare a oggi ovviamente poi passando per quel secolo che è fondamentale che abbiamo naturalmente trattato tutti i nostri libri e il diciannovesimo secolo perché in fondo poi la tutto quello che viene prima del cinema per anni è stato visto un po come una fase di transizione neanche tanto interessante poi si bisognava arrivare subito e invece poi da alcuni decenni a questa parte c'è finalmente una attenzione su queste cose per cui poi alla fine anche banale dire che che più andiamo avanti e più ritorniamo in qualche modo in quell'epoca e poi come noi sappiamo è stato inventato tutto in fondo l'immagine stereoscopica e anzi addirittura anche prima e quindi diciamo nel fare questo excursus che poi in realtà mentre io perché il libro è frutto essenzialmente di un seminario di un corso che io ho tenuto in accademia ed è coinciso proprio con più o meno nel 2019 quindi con tra il 2019 2020 insomma con il lockdown e qui e e alla fine tra l'altro poi ho scoperto perché un nostro amico simone arcani ha detto ma guarda che andrea pinotti sta facendo è un con il suo team insomma proprio un progetto di ricerca su sull'immersività ho detto beh mi sono sentito a certo punto quasi come uno pensa di no di essere lanciato eh e invece poi ero già ampiamente eh sorpassato da 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 appunto da altri cioè dai vostri studi che poi sono usciti insomma vabbè in realtà se siamo usciti parallelamente io e quello di Giancarlo ma poi è uscito quello di Andrea che io naturalmente ho letto poi eh primariamente proprio perché ero insomma anche anche però insomma volevo anche fare delle verifiche eh rispetto a quello che avevo scritto io eh e poi mh la eh piacevole sorpresa che poi tutto in qualche modo si 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 intersega si integra no per certi versi noi usiamo gli stessi in alcuni casi gli stessi esempi ma da punti di vista diversi quindi naturalmente questo è un arricchimento e quindi anche l'occasione di confrontarmi con voi è assolutamente per me una cosa fondamentale anche perché poi i libri uno li scrive i libri vengono anche spesso distribuiti male non 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 se ne parla tanto e alla fine poi cadono un po' anche nel dimenticatoio e invece poi devono essere occasione tanto non è che abbiamo chissà quali lettori insomma al di fuori poi del ma in ogni caso sono fondamentali i libri proprio per confrontarsi altrimenti uno non li scriverebbe certo ecco dicevo quindi eh io ho fatto una suddivisione in quattordici capitoli il libro non so se poi voi volete che io faccio anche una condivisione dello schermo così poi mentre parlo io faccio vedere anche delle immagini posso farla anche io o c'è un'inibizione no no non so se dobbiamo darti il controllo adesso è possibile ok eh no perché altrimenti poi mi vi diciamo tedio solo con le parole forse allora apri preferenze di sistema no probabilmente devo dargli la sì devo autorizzare il mio computer scusate ma io eh non avevo mai installato su questo computer non avevo mai installato allora vediamo se c'è il computer è bloccato quindi devo usare la facciamo così quindi consento a zoom a esco e riapro attenzione devo uscire dalla riunione e rientrare altrimenti non posso fare la condizione nello schermo speriamo che questa cosa non mi crei eh c'è un problema perché stiamo registrando altrimenti possiamo lanciare noi la condivisione allora sì eh vabbè se la lanciate voi non so se riesco a condividere però io lo schermo eh possiamo condividere noi e gestire la condivisione ah vabbè se è possibile allora io faccio a nulla perché a questo punto non e vabbè insomma vediamo se ci riusciamo intanto volevo fare altrimenti possiamo anche risolvere in modo analogico cartaceo cioè vi ho il libro davanti vi faccio vedere direttamente l'indice così facciamo la condizione uno schermo ecco dicevo eh beh poi il libro naturalmente non ha illustrazioni cioè ne ha veramente poche scelte in bianco e nero per una questione ovviamente di budget ma ecco eh hai quattordici capitoli adesso vi vado a leggere così avete anche un'idea di come è strutturato io poi ho ehm fatto seguire in in conclusione quattordici punti e che eh sintetizzano eh quali sono le caratteristiche di una opera immersiva ovviamente ehm cioè io ci ho riflettuto un po' no perché mi sembrava sempre ci fosse qualche cosa di mancante oppure eh avevo vincolato troppo la eh definizione di immersività a certe caratteristiche dell'opera ma mi sembra che più o meno eh alcuni alcune cose che io dico in questi quattordici punti mh servono abbastanza a indicare a sottolineare eh quali caratteristiche dovrebbe avere un'opera per dirsi immersiva che poi noi sappiamo esistono vari gradi di immersività quindi eh eh diciamo eh anche un'opera apparentemente non immersiva per alcuni soggetti invece può avere de un delle conseguenze anche molto più eh diciamo forti che in una diciamo che eh è abbastanza soggettivo in fondo no? È un libro come come quello di David Friedberg che tutti noi conosciamo il potere delle immagini un libro per esempio eh che è fondamentale per capire come non è solo ovviamente l'opera in sé il dispositivo e come è strutturato ma è come noi poi nel nel corso dei secoli abbiamo percepito l'opera eh e eh il mettere l'accento su quelle che sono le eh gli effetti eh dell'opera è sicuramente credo una cosa eh diciamo fondamentale ovviamente poi facendo attenzione a non cadere in quell'errore di ormai eh no vedere per esempio la disciplina come eh le neuroscienze applicate all'arte eh una sorta di panacea o comunque di filtro per poter rileggere perché insomma diciamo sappiamo che le neuroscienze magari hanno insomma c'è un 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 eccesso in questo senso. In ogni caso eh io sono partito per esempio oltre al diciamo che dalla dall'analisi di Chauvet che era un po' un prologo anche perché poi tra l'altro eh come voi sapete ehm ecco molti siti che non sono visibili o anche ormai molti musei ehm eh sono visitabili proprio attraverso delle ehm VR experience e quindi anche anche Chauvet no anzi tra l'altro parlando con Marco Senaldi eh alcuni mesi fa no pensiamo anche al al paradosso che eh se Chauvet eh si è si è scelto quindi di fare una eh esperienza immersiva in realtà virtuale mentre invece l'altra l'altra grande ehm l'altra grande grotta francese che è Lascaux invece eh è stata duplicata no? Quindi è stato fatto un doppio perfetto di Lascaux quindi un un ambiente ehm realmente visitabile quindi due due eh possibilità diverse no? Quindi una sorta di eh Lascaux bis che appunto impedisce di andare a Lascaux per cui poi eh ci potrebbero essere dei problemi no? Perché come voi sapete anche il respiro non so può danneggiare questi fragili ehm opere questi questi murales di di migliaia di anni fa e invece ehm sia attraverso un doppione di Lascaux sia attraverso un'esperienza virtuale noi possiamo comunque entrare nell'opera eh attraverso delle modalità diverse ecco ma dicevo in realtà a me eh sembra che eh io mi sono soffermato sui due esperimenti che fa ehm eh Brunelleschi eh nel quattrocento per ehm in realtà ehm associarli alla realtà virtuale un esperimento che è quello che lui fa con eh il disegno eh la la tavoletta che ha il il battistato di Firenze e che lui vede attraverso una fessura eh mette uno specchio davanti alla tavoletta vede quindi il riflesso della tavoletta attraverso il il vedo e questo è un è un esperimento prospettico che è effettivamente all'origine io io dico proprio dell'immersività in fondo il dispositivo dello specchio e qui poi Andrea eh si è soffermato moltissimo appunto sull'origine della virtualità nel 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 mito di Narciso per cui è ancora il il riflesso della propria immagine qualcosa che viene prima ma sicuramente il fatto che Brunelleschi nel quattrocento eh utilizzi lo specchio e non quindi una una semplice immagine prospettica e è chiaro che la dice lunga eh eh su due cose sul fatto che ehm lo specchio è sicuramente un dispositivo di grande immersività e poi anche che in fondo c'è un anticipo quasi del kinetoscopio e tutta una serie di dispositivi che sono invece basati sulla eh sull'avvicinare l'occhio a un buco quindi eh un un dispositivo guayeristico diremmo così e poi l'altro esperimento che fa eh Brunelleschi su cui io mi soffermo e faccio poi un'analisi di alcuni espedienti del cinema degli effetti speciali che si sono sviluppati oggi naturalmente come digitale è cambiato tutto ma sono stati eh molto utilizzati o soprattutto per esempio negli anni cinquanta quando c'erano eh film estremamente spettacolari come il realizzati in cinemascope oppure in vista vision eccetera e cioè il eh beh in realtà anche prima eh si facevano questi effetti ma noi in Italia abbiamo avuto un un autore un pittore eh che si chiama Joseph Nathanson che è realizzato anche per Fellini eccetera cioè il il eh il matte painting oppure il il glass shot cioè dei mascherini che esattamente replicano più o meno come idea l'altro dispositivo di Brunelleschi che è quello di fare una sorta di eh sagomatura di 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 silhouette di piazza della signoria a Firenze di metterla quindi ad una cerco su un piedistallo a una certa distanza dal da chi guarda da chi osserva e questa sagoma va in qualche modo a incastra a sovrapporsi a sostituirsi a quella che è la veduta reale quindi io ho pensato che Brunelleschi eh attraverso un dispositivo ha inventato in qualche modo la realtà virtuale e con l'altro dispositivo ha invece eh anticipato la realtà aumentata perché in fondo è esattamente la stessa cosa cioè un gioco di sovrapposizione per cui le sagome eh eh degli edifici di eh la la prospettiva di piazza della signoria quindi va a ehm sovrapporsi a quella reale e il cielo però perché è ritagliato qui c'è poi tra l'altro anche una un lavoro proprio sulla appunto sulla sagoma sulla silhouette e il il cielo invece è ehm è quello reale quindi esattamente come la realtà aumentata io eh vedo anche se la realtà aumentata ma ovviamente ne sappiamo cioè ci sono due modalità video mapping è sicuramente un lavoro per cui il nostro stesso spazio reale si eh virtualizza quindi ma eh siamo completamente eh proiettati all'interno di un gioco spaziale illusorio oppure se no altrimenti c'è la possibilità eh attraverso gli HoloLens di ehm avere all'interno del nostro orizzonte visivo solo alcuni elementi che si sovrappongono che eh si 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 intersecano che affiorano all'interno della realtà ora quindi eh il eh diciamo all'interno quindi della prospettiva eh delle ricerche Brunelleschi anche poi naturalmente si si cita più che Brunelleschi spesso ehm della porta no? Cioè quindi eh la eh no scusate della porta eh Leon Battista Alberti quindi la la eh il nome viene associato di più è quello eh dell'Alberti cioè della finestra albertiana ma invece mi sembrava che questi due esperimenti che sono abbastanza eh curiosi, bizzarri del del Brunelleschi fossero invece eh molto più vicini a questa idea che noi oggi stiamo attraversando dei dei due tipi di realtà. Poi vabbè naturalmente sappiamo che ce ne sono altri, c'è una realtà mista, poi questa diciamo casistica eh delle dei vari mondi possibili, dei metaversi, eccetera, c'è anche eh adesso ricordo quale studioso che cito, rubato questa cosa, in realtà ha sempre a all'amico Arcagni ma nella nella definizione delle varie realtà c'è anche la eh realtà reale, no? Allora eh eh è uno spiazzamento estremamente interessante, cioè il fatto che ormai se perfino la nostra realtà viene eh classificata come una delle possibili, allora è ovvio che i termini eh del del discorso si invertono e quindi il paradosso è che noi leggiamo il nostro essere in una realtà vera come una delle possibili, quindi non è detto che sia poi anche proprio quella eh principale e in futuro forse lo sarà sempre di meno, insomma, se saremo così invasi dalle nuove tecnologie. ehm ecco poi ovviamente eh dal dal quattrocento quindi dal secolo della codificazione della configurazione della eh prospettiva fino al all'arte barocca quindi eh tra cinquecento e seicento dispositivi come il Tromplay eh hanno eh quindi intensificato questa eh esplosione, questo passaggio dal mh e vabbè anche su questo insomma io veramente c'ho davanti delle persone che probabilmente ne sanno anche più di me quindi mi sembra veramente di che sto facendo Andrea sto facendo tipo un esame di dottorato davanti a te. Va beh insomma in ogni caso una uno uno degli aspetti no? Che ho sempre sempre riflettuto su questa cosa e ne parlo anche nel libro è che in fondo eh è la eh diciamo il Tromplay che spettacolare no? Del del seicento quindi da da Andrea Pozzo a Giovan Battista Gaulli quindi nella chiesa del Gesù alla chiesa. Naturalmente si citano sempre questi due eh affreschi immensi o questo sfondamento del del soffitto che c'è nella nella chiesa di Sant'Ignazio a Roma oppure nella chiesa nuova del Gesù dalla parte del Gaulli. Beh insomma in qualche modo sono il cinemascope del seicento no? In fondo eh eh la con la controriforma non si fa altro che eh si si rendono spettacolari le chiese per riportare al loro interno i fedeli e la stessa cosa viene viene fatta negli anni cinquanta. Gli anni cinquanta noi sappiamo che quindi con il Vista Vision, il Cinerama, il Cinemascope, tutto anticipato da quel genio del cinema che era Belganzo con la Polivisione ma perché si fa questo? Perché in America c'era il problema che bisognava sottrarre pubblico eh alla alla televisione il eh televisione questo diciamo medio che irrompe che si comincia a diffondere nel eh subito dopo la seconda guerra mondiale quindi tra il quarantasette e il quarantotto c'è una eh una moltiplicazione esponenziale quindi di di piccoli schemi e quindi bisogna ricatturare un'altra volta allo spettatore e quindi c'è eh lo schermo immersivo del del Vista Vision, del Cinerama, del CinemaScope e è quindi un modo di ehm catturare di nuovo di sottrarre al piccolo schermo lo spettatore che è esattamente quello che poi era avvenuto nel nel Seicento. Dopodiché poi ovviamente attraverso queste io mi sto un po' raccontando la struttura del libro mh è chiaro che ho fatto delle delle digressioni anche sulla sulla base di un filosofo forse discusso discutibile per adesso non so poi se voi eh Sloterdick non so mi 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 rivolgo Andrea insomma il grado di considerazione che 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 tu hai per esempio su su Sloterdick ma io mi sono appassionato a leggere sfere uno due tre penso che eh sì parlandone con Montani anche lui ha beh lui ha fatto un'introduzione scritta di Sloterdick ha detto beh effettivamente sfere uno due tre è un è il libro di Sloterdick mentre invece altri nostri colleghi sempre Senaldi considerano per esempio Sloterdick assolutamente un un blef ma eh alcune cose sue mi hanno sicuramente affascinato quantomeno per esempio eh ho eh creato una sorta del terzo capitolo del libro eh feto caverna e natura ho preso delle suggestioni dal fatto che Sloterdick dice andando addirittura contro la canna quindi la eh no eh cioè che in in fondo la prima esperienza lo stadio eh ancora prima dello specchio di eh formazione dell'io di identità non non è quando il bambino ehm ha eh all'esperienza del sé davanti allo specchio ma già nel nel feto materno perché eh è già un ambiente immersivo naturalmente quindi l'associazione tra il feto la caverna e poi anche quella immersività di cui parla e Emanuele Emanuele Coccia nel libro sulle piante allora diciamo questi testi mi hanno eh permesso di fare delle associazioni su su questi tre eh su questi tre dispositivi naturali in fondo no? Cioè la vita immersiva delle piante, gli ecosistemi, poi il il feto e quindi la placenta e tutto quello che noi eh dal punto di vista non solo tattile ma anche dei suoni no? Sloterdick eh parla molto del del fatto che eh eh all'interno del feto durante i nove mesi di gestazione più o meno nove insomma eh noi abbiamo una serie di esperienze sensoriali ma eh uditive soprattutto no? Eh e quindi anche questo diciamo è un un capitolo in qualche modo senza diciamo tempo non io appunto il la la il procedere diacronico e quello sincronico all'interno del libro mi sembrava l'unico modo per esplorare eh poi alla fine 150 pagine eh questa eh evoluzione del del concetto e del e del dispositivo immersivo. Tra l'altro ecco poi adesso io senza neanche ehm leggere il libro eh rileggere il libro ma eh poi ecco un altro degli studiosi e credo che su questo anche Andrea si sia d'accordo cioè McLuhan io trovo che eh beh insegnando veramente ai miei studenti durante i corsi ma ecco io trovo che McLuhan veramente è insieme a Benjamin ecco Benjamin e McLuhan sono due studiosi che hanno tra l'altro con grandissima affinità pensiamo anche al concetto di innervazione in Benjamin e di eh di di estensione dei dei media come concezione dei media come un'estensione del corpo in McLuhan ma McLuhan è insuperabile è insuperato cioè quello che lui scrive nel sessantacinque è assolutamente attuale come noi sappiamo ma c'è poi un'altra frase che mi ha colpito di quest'altro piccolo libro che invece poi quello che lui scrive con il medium e il il massaggio non so se riesco a trovarvi la eh citazione ma a un certo punto lui è proprio eh nomina la parola ambiente e quindi mi sembrava proprio eh diciamo a ad hoc no? Quando lui dice tutti i mezzi di comunicazione ci condizionano nel modo più assoluto sono a tal punto pervasivi nelle loro conseguenze personali politiche economiche estetiche psicologiche morali etiche sociali che non lasciano integra indenne né inalterata nessuna parte di noi il medium e il massaggio naturalmente poi lui giocando eh sappiamo facendo questo calambur dalla eh dal suo concetto di medium e il messaggio a medium e il massaggio fa altro che diciamo sottolineare un altro aspetto di questo rapporto che noi abbiamo con il medio ogni comprensione del cambiamento sociale e culturale è impossibile senza una conoscenza del mondo eh no scusate una conoscenza del modo in cui i mezzi di comunicazione funzionano come ambienti ecco questa questa parola final no ambienti beh e appunto racchiude anticipa poi tutto quello che noi stiamo vivendo cioè il fatto che eh il mondo è diventato un unico grande medio ma la realtà e quindi un unico grande ambiente immersivo insomma e infatti McLuhan aveva già ehm all'epoca questa idea appunto dei dei media che configurano ehm la la diciamo le le forme di aggregazione sociali no quindi eh facevamo questo esempio non so quale libro tu introduce un un'apparecchio telefonico in una università e quel semplice apparecchio telefonico cambia radicalmente i rapporti con diciamo tra le persone e però anche tra le persone e l'istituzione ovviamente oggi di telefoni eh ne abbiamo più di uno a portata di mano personale quindi è chiaro che è completamente cambiato questo aspetto ma questo eh diciamo intervento sull'ambiente no questa frase che lui dice è eh però secondo me abbastanza eh significativa appunto di una serie di conseguenze che che riguardano proprio la immersività mh poi ovviamente un rapporto tra eh il tattile e l'ottico quindi eh uno uno dei libri eh fondamentali perché naturalmente anche 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 Andrea insomma se ne soffermato diciamo molto su su questo testo che è quello di Jonathan Crary e sulle sulle tecniche dell'osservatore è uno dei dei testi imprescindibili in un discorso poi che è quello sia sul dispositivo dell'ottocento ma anche poi sul sulla dicotomia tra eh ottico e diciamo tattile anche in questo in fondo eh c'è questo continuo passaggio no da un dispositivo all'altro tra l'ottocento e il novecento dispositivi più di tipo ottico e poi di tipo tattile in fondo eh anche eh la prevalenza del cinematografo dei fratelli Lumiere rispetto al kinetoscopio eh eh la dice lunga sul fatto che evidentemente le immagini eh dovevano diventare una ehm un patrimonio da condividere tutti quanti insieme piuttosto che qualcosa di individuale ma siamo ritornati nella nostra epoca al kinetoscopio quindi alla alla percezione individuale quindi poi naturalmente bisogna capire se è più immersiva una sala cinematografica oppure se è più immersiva una visione solipsistica sul cellulare sono delle persone riesco a perdersi i film sui cellulari io ne ho uno piccolo un iPhone cinque quindi eh sarebbe impossibile ma anche su una su un'iPhone un po' più grande per me sarebbe impossibile su questo oltre a Jonathan Clary va beh come noi sappiamo si sono eh si sono prodotti all'inizio d'anno due i duemila si sono diciamo hanno teorizzato molto eh Bolter e Grusin e e la questione però è sempre quella no che poi cui poi dopo ci interroghiamo un po' tutti no anche anche Andrea se non sbaglio nel nel suo libro parla naturalmente proprio dell'immedesimazione no del soggetto sì del fruitore all'interno della sala cinematografica e però il problema la questione è sempre quella no quando più eh come dicono Bolter e Grusin eh è chiaro che eh andremo sempre di più verso quello che è un regime di immediatezza trasparente cioè eh in fondo l'immersività è estremamente legata al fatto che io mi devo completamente dimenticare del dispositivo il dispositivo è un appello il dispositivo è qualcosa che mi ingabbia che mi limita che mi imprigiona quindi più sottile è il dispositivo più invisibile il dispositivo più io ho un'esperienza immersiva però il problema è anche che nella realtà virtuale sì alla fine ho una cosa in testa certo ho un orizzonte a trecentosessanta gradi quindi dimentico in fondo oddio dimentico è chiaro che più si faranno meno anzi meno invasivi eh saranno i dispositivi più anche l'esperienza della della VR sarà un'esperienza più eh immersiva però il problema è sempre quello no cioè il dispositivo che c'è il dispositivo che invece viene completamente annullato che si eh smaterializza e e su questo però facciamo i conti da alcuni secoli in fondo quindi dalla fantasmagoria dalle dalle lanterne magiche di Robinson e di Robertson in ogni caso eh è chiaro che dedico ampio spazio ed è impossibile era impossibile non farlo eh sui dispositivi del del diciannomessimo secolo sono avvolgenti sono completamente eh quindi a trecentosessanta gradi il panorama il diorama il cosmo rama il georama e tutte le decine e decine di dispositivi su cui poi si è ampiamente c'è tutta una ampia bibliografia eh sicuramente uno dei libri più affascinanti è quello di Giuliana Bruno a cui è inevitabile non prendere alcune eh suggestioni mh e poi si arriva al novecento e il il titolo del libro come voi sapete è proprio una citazione dal manifesto tecnico della pittura futurista del 1910 cioè noi porremo lo spettatore nel centro del quadro e è chiaro che questa dichiarazione che viene fatta nel manifesto è una dichiarazione di intenti è quello che poi diciamo dal futurismo in poi viene sistematicamente fatto realizzato eh è inutile dire che i futuristi hanno anticipato quasi tutto quello che nel campo dei media e anche del rapporto tra arte e nuove tecnologie è avvenuto in seguito eh quando certo noi ci interroghiamo anche sul cinema su quello che ci hanno lasciato è veramente poco in fondo eh anche questo film significativo che doveva essere vita futurista non c'è rimasto anche se poi Giovanni Lista dice che cinque minuti sono sopravvissuti ce l'ha un collezionista lui probabilmente li avrà anche visti ma non non lo tira non tirano fuori questi cinque minuti per il momento per una questione di eredie eccetera eccetera ovviamente noi saremo tutti molto eh curiosi di vedere almeno eh questi cinque minuti che cosa è sopravvissuto certo la preoccupazione eh diciamo eh dei futuristi che poi si espande al tattilismo quindi all'esperienza tattica che diventa una delle esperienze appunto fondamentali di eh dell'immersività beh insomma quello che hanno scritto i futuristi rimane imprescindibile mh nel settimo nel settimo capito che siamo già a metà del libro ho cercato invece poi di analizzare eh essenzialmente quindi la lo sconfinamento rispetto allo schermo e anche su questo devo dire eh un altro tema su cui mi ero appassionato e poi ho ovviamente letto eh il libro di Andrea con diciamo i vari dettagli e il problema della cornice quindi c'è sempre stato lo sconfinamento rispetto allo schermo di proiezione è è un aggiornamento rispetto a una serie di di questioni abbiamo parlato del barocco in fondo eh l'immagine barocca per cui eh il pittorico si interseca con eh lo scultorio le azioni eh sconfinano poi con con l'immagine pittorica con la fresco oppure viceversa insomma ecco che il problema della dell'esplosione del dell'expanded cinema si comincia a porre in senso eh diciamo tecnologico eh ma insomma in fondo anche 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 prima di Abel Guns ma nel 1927 c'è questa eh grande rivoluzione che tra l'altro poi nel 1927 forse ecco pochi sanno ma contemporaneamente a quello che fa Abel Guns con il cinema narrativo c'è la possibilità almeno solo nella parte finale del film che sarebbe costato moltissimo fare tutto il napoleon in con la polivisione cioè su tre schermi ma ehm è anche vero che eh sempre nel 1927 c'è Oscar Fischinger che realizza un film e su questo forse non ho mai riferito abbastanza se viene prima dopo in contemporanea ma eh il suo Er ein Formspiel è un film astratto anche quello su tre schermi stesso anno della di di del Napoleon di di Abel Guns quindi uno fa un film comunque narrativo e un altro fa un film astratto però è anche vero che la vera rivoluzione di Abel Guns non è quando attraverso i tre schermi lui costruisce un'unica immagine panoramica ma quando lui eh usa lo schermo centrale per mettere un'immagine e gli schermi laterali per mettere eh due immagini eh diverse speculari cioè lui inventa la la video installazione cioè la inventa nel 1927 la concezione del eh dell'installazione pluricanale per cui ci sono adesso non so se in alcuni punti del del napoleon adesso non ricordo se sono addirittura tre immagini diverse ma già il fatto di non creare un'unica immagine un unico panorama cioè cosa che fa non solo ma anche di giostrare i tre schermi con delle modalità diverse beh questa è una cosa assolutamente rivoluzionaria per l'epoca poi va bene come sappiamo ci sono le varie possibilità di schermo eh schermo eh sferico di di Laszlo Molinaggi il schermo dinamico di di eh di Esasten che poi anche lì è anche anche quella è una è una nuova concezione cioè che anticipa oggi per esempio vengono fatti dei film come noi sappiamo per eh col formato verticale esistono dei festival sul cinema verticale no? Ci sono esistono dei videoclip che sono pensati per essere visti come se uno poi eh no eh cioè non dovesse neanche fare lo sforzo di fare così fondo no che cosa eh no però questa idea del fatto che la cornice non debba soltanto avere un formato orizzontale ma anche verticale quindi è una cosa che anche prima di Esasten eh viene viene naturalmente messa a punto cioè c'è una riflessione su questa poi naturalmente sull'ottavo eh capitolo neanche vorrei parlarne perché qui entra in ballo invece il libro di Giancarlo però era inevitabile no parlare degli stati di alterazione cioè l'estasi la droga il sogno e qui naturalmente gli Esasten la fa da eh padrona anche l'altro nostro amico che Antonio Solomaini è stato ovviamente eh di aiuto insieme a Montani altri testi per quanto riguarda invece la ricerca proprio di Esasten è chiaro che un libro come La natura non indifferente è sicuramente uno di quei testi che io ricordo eh risale al mio primo esame fatto con Maurizio Grande nell'ottantasei ecco uno degli studiosi italiani di cinema di cui sentiamo sicuramente la mancanza cinema e di teatro di cui sentiamo sicuramente la mancanza purtroppo è diciamo scomparso troppo presto ma ehm il discorso insomma sul sul fatto che eh noi possiamo raggiungere degli stati di immersività eh no eh attraverso quindi eh dei un altro tipo di dispositivo che è quello eh psicotropo beh in fondo anche qui ce la dice lunga cioè esistono da millenni degli sciamani che riescono a teletrasportarsi quindi eh il fatto che noi oggi attraverso le nuove tecnologie cerchiamo di creare delle condizioni eh psicofisiche per cui ci sono delle persone che eh riescono a farlo semplicemente sfruttando probabilmente le potenzialità del cervello del pensiero mh beh insomma eh è davvero paradossale cioè significa che eh noi umani non abbiamo evidentemente sviluppato a sufficienza le nostre capacità cioè noi siamo già di dispositivi vabbè su questo poi sul fatto che eh c'è questo rapporto tra noi e i dispositivi e che noi siamo diciamo un dispositivo primigenio e si soffermano molti eh studiosi eh poi mh vado avanti molto velocemente un il il capitolo numero nove eh pensavo fosse importante parlare del rapporto tra il buio e la luce esistono tra l'altro delle anzi forse la vera immersività ancestrale che eh l'uomo eh prima dell'invenzione del fuoco no ha ha dovuto vivere gioco forza era il fatto che non essendoci una una fonte luminosa quando il sole calava era immerso nel buio a meno che non ci fosse stata una diciamo la luna quindi eh senza la luna si era completamente immersi nel buio quindi il buio è chiaramente una e qui naturalmente poi sulla facciata del buio ricordo questa questa mostra famosa del trentotto questa mostra del surrealismo questa è una cosa che ho rubato sempre all'amico Senardi questo bellissimo libro che ha scritto eh la scienza dell'arte su Parcel Duchamp ma andando a scavare alcuni aspetti no proprio legati all'ottica legati alla eh scienza il rapporto con la scienza e c'è in questa mostra che lui fece questo allestimento in realtà era immessa nel buio quindi lo spettatore attraverso delle torce doveva illuminare i quadri questa forse è una delle delle mostre più immersive che si sia vista perché insomma lo spettatore che deve entrare in questo buio assoluto ovviamente poi eh per vedere dei quadri surrealisti quindi c'è tutto un riferimento proprio alla al è una è una è una condizione inconscia in cui eh eh lo spettatore il fruitore era immerso poi vabbè su teatro performance si immagina ho dovuto dedicare veramente un uno spazio ma anche qui poi non si può far altro che dire poche cose poche accenni perché è chiaro che poi ognuno di di queste suggestioni implica poi una è chiaro che il teatro è una una pratica immersiva sappiamo che forse per la prima volta viene usato da Artaud nel mio 128-130 il termine di realtà virtuale poi vabbè sicuramente scopriremo che non è stato lui il primo che ci sarà qualcun altro che l'ha detto prima però è sicuramente interessante il fatto che il teatro della crudeltà comunque il certo tipo di teatro pagheggiato e realizzato da e teorizzato da Artaud e abbia molto a che fare con questa esperienza della della virtualità ovviamente poi ecco io eh arrivo soltanto quindi al nell'ultimo del quattordicesimo capitolo a parlare in senso stesso della realtà virtuale ma si parla per tutto il libro è chiaro che la realtà virtuale diciamo è il come dire è il il convivato il il convitato di pietra insomma ma eh cioè c'è sempre un riferimento eh più che alla realtà aumentata alla 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 virtual reality poi eh un acceno nell'undicesimo capitolo al suono tra l'altro proprio quando eh durante il lockdown insomma io ho scritto il il libro eh avevo letto appunto che David Monacchia Pesaro aveva inaugurato questa sonosfera che tra l'altro io non ho ancora visto e eh questa idea quindi di fare una un ambiente immersivo sonoro tra i più avanzati al mondo pare ma soprattutto poi tra l'altro per ascoltare i suoni di quegli ecosistemi che non ci sono più cioè che comunque stanno scomparendo penso che dalla comparsa dell'homo sapiens a oggi siano stati distrutti credo i quattro quinti degli ecosistemi eh sul sul pianeta e quindi c'è anche una eh una eh attenzione e attraverso l'immersività a eh così a conservare almeno nella nostra memoria eh sonora percettiva eh realtà che non ci sono più perché poi il problema non è solo ovviamente come noi sappiamo eh produrre nuovi eh mondi no? Eh metaversi ma sarebbe più impellente conservare quelli che abbiamo sul sul pianeta ma qui poi ovviamente c'è una serie di considerazioni eh diciamo eh ecologiche che però anche qui è un altro paradosso no? In fondo cioè che senso ha eh conservare la memoria immersiva no? Entrare dentro degli ecosistemi quando eh eh erano effettivamente esistenti e non ci saranno più ci sarebbe insomma molto da interrogarci su questo poi ecco nel centro del quadro ovviamente è il dodicesimo capitolo e io mi sono soffermato molto su questo perché poi è qualcosa che forse conosco un po' di più ma poi neanche tanto insomma che è poi la videoinstallazione eh e ehm e poi anche la videoinstallazione immersiva beh io mi sono molto occupato di studi azzurro è chiaro che quando nel 1995 loro inaugurano gli ambienti sensibili anche qui compiono una non che non ci fossero prima ma sicuramente gli ambienti sensibili eh come coro, tavoli, il totale della battaglia, il soffio sull'angelo che Studio Azzurro ha eh inventato, ha creato e beh insomma è qualcosa di estremamente importante, significativo, quindi ha avuto una risonanza a livello internazionale e ha ampliato di molto eh il problema dell'immersività all'interno di un'installazione anche perché poi eh c'è anche il diciamo la partecipazione da parte del eh dello spettatore quindi non c'è soltanto eh immersività ma c'è appunto l'interattività c'è eh questa estetica relazionale c'è l'opera partecipata cui poi Paolo Rosa ha scritto ha scritto molto anche il suo il suo libro scritto con Balzola l'arte fuori di sé in fondo è un saggio importante perché a distanza di anni mette un po' di ordine anche rispetto a queste ricerche che Studio Azzurro che ha attraversato dagli anni ottanta agli anni novanta come spesso succede molti artisti hanno una eh creatività infinita per cui poi alla fine non riescono neanche a riflettere su quello che fanno perché sperimentano continuamente di nuovi dispositivi stesso discorso che facevo inizialmente di eh di di Sambin no a certo punto lui va avanti a cantone delle cose senza poi sfruttare eh esplorare tutte le possibilità che si hanno poi il tredicesimo il penultimo capitolo è invece dedicato a si chiama rete gioco labirinto quindi ovviamente il il labirinto è un altro dispositivo come lo specchio estremamente immersivo su questo vabbè insomma anche Andrea eh ne ha parlato guarda io poi siccome io non mi ricordo nulla no ma vi giuro non è un pezzo quindi io non so se sto confondendo ti giuro che ho letto il tuo libro due due mesi fa ma siccome io non io non mi ricordo neanche l'ho scritto nel mio quindi non eh faccio estrema confusione vabbè insomma poi alla fine si arrivano a sti quattordici punti che sono due paginette ma non lo so se vale la pena che io li legga oppure finiamo qui mi fate delle domande perché io sono abbastanza anche un po' così non non so neanche quanto ho parlato e poi non vi ho fatto vedere le immagini per cui vi sarete anche un po' rotti i coglioni in ogni caso ditemi voi che cosa devo fare? Riesci a fare una sintesi diciamo di questi punti magari allora ma trovate alcuni concetti più salienti su allora vediamo un po' dunque l'arte immersiva è esperienziale prevede dunque il coinvolgimento dell'osservatore sia attivando più sensi contemporaneamente amplificando la sua percezione sia rendendolo partecipe del processo di completamento dell'opera anche mediante dispositivi interattivi siano essi artigianali o altamente tecnologici e in fondo è quello che ho detto prima a proposito dell'opera diciamo partecipata vi leggo il terzo punto io non mi ricordo manco quali sono in realtà quelli proprio diciamo salienti quindi vi leggo quelli più brevi così facciamo che l'arte immersiva può non contenere elementi di virtualità mentre l'esperienza virtuale quando vi è un'accentuazione della sua natura di simulazione comporta sempre una condizione di immersività ecco questo non so spero di averci riflettuto abbastanza ma può essere vero questo punto quindi una cosa l'arte immersiva può non essere virtuale ma la virtualità è sempre comunque immersiva poi vi leggo anche il sesto punto l'arte immersiva può sfruttare meccanismi ed effetti illusori giochi ottici prospettici speculari nonché qualunque altro espediente per subire il fruitore procurandogli uno shock momentaneo allo scopo di risucchiarlo totalmente all'interno della rappresentazione l'arte immersiva può basarsi su immagini fisse o immagini in movimento immagini piatte o in rilievo ma in ogni caso infondendo nell'utente una sensazione dinamica e tridimensionale dell'opera e dello spazio circostante anche questa è una cosa che sì insomma mi trovo abbastanza d'accordo è come se l'avesse scritto un'altra persona quindi adesso io li sto rileggendo e dico se sono più o meno d'accordo su quello che ho scritto poi l'arte immersiva può essere fruita in luoghi chiusi e luoghi aperti o in luoghi ibridi naturali e o artificiali ma comporta comunque la perdita di riferimento spazio temporale è chiaro quando noi vediamo videomapping io faccio l'esempio per esempio il videomapping del 2017 fatta nella plaza mayor di madrid per cui era a 360 gradi tra l'altro poi aveva un senso e sto facendo una conferenza quindi non ti posso rispondere spero che tu abbia le chiavi figlia mia sì perfetto hai le chiavi allora ecco dicevo che e quindi alla fine il videomapping ha un senso quando ti racconta non è un semplice gioco così di effetti speciali in quel caso ti raccontava in venti minuti la storia della piazza e quindi anche diciamo della spagna perché chiaro che almeno gli ultimi tre secoli e però è ovvio quando tu assisti a un videomapping comunque continui a avere una percezione a proprio sezione quindi la sensazione di essere un luogo fisico ma il vero videomapping è quello che ti davvero no ti immerge tanto da farti perdere il contatto con il il reale l'arte immersiva può trasformare il nostro stesso spazio quotidiano nello spazio della rappresentazione eh modificando alcuni elementi che ci sono apparentemente familiari ma che divengono eh all'improvviso perturbati va bene è chiaro un Heimlich di Freud sappiamo che è questo no quando qualcosa di familiare improvvisamente diventa qualcosa di estraneo e quindi ci ci angoscia o attuando azioni performative che possono estranearci dalla dimensione reale e poi ecco l'ultimo punto e quello in fondo eh io sono debitore a questo eh per questo punto eh di eh di Gene Youngblood perché eh le il cinema espanso cos'è cioè cos'è il concetto di espansione sono tre possibilità una è eh appunto espanso perché sconfina rispetto alla conice dello schermo un'altra è perché si interfaccia con altri media e quindi all'epoca cioè nel 1970 già il rapporto tra il cinema e il computer e il cinema e il videotape e poi la diciamo terza eh nozione eh il terzo significato di espanso è che serva a espandere la coscienza dello spettatore il cinema che non eh no che non fa maturare la nostra coscienza quindi questo è chiaro che c'è una eh deriva spirituale e non serve a niente infatti lui non salva nulla neanche neanche la noel bug l'unico film eh diciamo mainstream a parte tutti i vari film sperimentali quindi a Jordan Belson a a James Whitney a John Whitney che analizza molto bene l'unico film diciamo che oggi ne diremo mainstream che salva è duemila e uno di se lo spazio che in fondo è proprio beh insomma eh anzi possiamo dire che quasi racconta dell'immersività come film comunque io concludo dicendo l'arte immersiva può configurarsi come una sorta di viaggio immaginario virtuale sensoriale che ha come obiettivo tanto una più precisa conoscenza del mondo esterno e della realtà fisica quanto una maggior consapevolezza del proprio mondo interiore spingendo il fruitore alla trasformazione e maturazione della propria coscienza emozionalmente psicologicamente spiritualmente direi mi concludo qui eh grazie Bruno non so se avete capito granché del libro però insomma non vi ho manco fatto delle immagini ma va bene grazie Bruno eh il po' ehm un po' per per fare un'ulteriore sintesi è un libro che arriva ad una teoria dell'immersività attraverso diverse storie attraverso diverse storie che passano attraverso diverse immagini che vanno effettivamente dal labirinto al viaggio cioè una sua centralità molto potente e io volevo tornare su quest'idea di espansione a cui facevi riferimento ora anche attraverso young blood eh e pensavo eh e pensavo soprattutto ad un passaggio del del tuo libro che secondo me apre una problematica teorica molto interessante ovvero quando tu dici che l'immersività sembra avere quasi una doppia direzione un'ambiguità potrei dire eh cioè che da una parte eh sembra riguardare un isolamento del soggetto nella simulazione dall'altra invece sembra essere una caratteristica dell'essere nel mondo in senso liriano cioè liriano fatto che il soggetto è sempre all'interno di quella che tu riprendendo Flori dichiami un'infosfera e poi nel senso di Slaughter di che è sempre una sfera culturale ecco ehm e volevo di di pensare un po' a proposito di questa ambiguità cioè se 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 ne esce o di ma rimaniamo sempre in qualche modo beh eh allora eh beh innanzitutto eh proviamo a parlarne attraverso per esempio i social no quindi se Zuckerberg come prospettiva adesso poi non so se ha già cambiato l'idea ma forse no probabilmente ha in mente quindi un metaverso per i social e allora è chiaro che per esempio la nostra vita sui social è chiaramente drogata no dal fatto che come poi dice anche di un ciulano no cioè da un lato sì noi siamo nello sciame ma insomma eh alla fine e non facciamo altro che rispetto a mh l'uomo eh electricus di eh quindi l'uomo dell'era elettronica di ehm elettrica di 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 McLuhan noi oggi abbiamo fatto eh un passo eh cioè appunto indietro perché siamo all'interno di una comunità enorme intelligenza collettiva la rete eccetera ma siamo molto più soli quindi è essenzialmente lo stesso problema che noi abbiamo con la per esempio con la realtà virtuale e con l'immersività cioè ma in realtà non c'è una soluzione perché è un po' come appunto eh perché si afferma il cinematografo no? Eh in fondo beh si afferma anche per una questione diciamo tecnologica perché uno non avrebbe potuto ehm azionare un film all'infinito con la manovina vabbè ma questo non vuol dire nulla perché il visore sarebbe potuto esserci lo stesso e c'era comunque un meccanismo di proiezione ma eh individuale e solipsistico in realtà ogni forma d'arte è a una condivisione collettiva quindi è chiaro che il cinema non ha non si vede perché il cinema non avrebbe dovuto seguire alla fine dell'ottocento quel tipo di divisione lì il problema per esempio della realtà virtuale è che eh io una volta mi sono incazzato perché mi hanno invitato qualche mese fa ad una performance alla eh a Roma alla all'ex mattatoio e ah ma devi venire perché questa è una cosa di realtà virtuale cioè e sapete in cosa consisteva cioè la performer aveva il casco della realtà virtuale e io e noi il pubblico è stato mezz'ora 40 minuti a vedere lei che vedeva qualcosa e che doveva diciamo trasmettercela una cosa insostenibile no perché io certo è interessante no per dire che in fondo però è proprio quello cioè è una fruizione non solo solipsistica ma ci fai uno spettacolo sopra cioè io spettatore sono impotente no perché è chiaro che uno avrebbe potuto chiedere cioè ma almeno proiettasse sullo schermo quello che vede che poi appunto è l'escamotage che eh io cioè che abbiamo usato tra l'altro poi io per esempio sulla realtà virtuale ho fatto una 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 mostra in una chiesa rupestre di ehm di ehm matera ecco mater ehm viare experience e che era diciamo essenzialmente l'allestimento di cinque film su matera eh alcuni erano più sperimentali altri meno eh erano essenzialmente degli esperimenti di videopoesia in realtà virtuale forse erano i primi esperimenti cioè il primo esperimento mater ma eh penso che lo conosca forse anche anche Andrea non so se hai 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 visto questo in ogni caso è chiaro che quando tu fai una mostra su questo possibilità che hai è quello di certo mettiamo le postazioni ma devi comunque farlo vedere allora tu lo fai vedere solitamente con lo schermo ehm metti lo schermo e quindi il fruitore alla fine ha un'esperienza solipsistica quindi immersiva ma la diciamo condivide con gli altri vuol dire che poi noi abbiamo fatto anche un'altra cosa che eh ha fatto su cinque autori due erano d'accordissimo e tre si sono incazzati cioè io ho detto ma in fondo no l'immagine anamorfica insomma della realtà virtuale adesso che sto prendendo un un fotografo è bella anche vederla esattamente come noi l'abbiamo stampata sul catalogo no cioè tu la vedi naturalmente panoramica e non la vedi allora eh gli autori più eh diciamo sperimentali ecco per esempio questo qui è un un video con Domenico Brancale che è un poeta che eh tra l'altro se l'è anche girato da solo è l'unico anche perché poi è un era un era un progetto molto interessante cinque poeti e cinque video artisti no quindi insieme che eh facevano una una viare experience di video poesia certo ho detto ma è bella anche questa immagine qui dice allora alcuni hanno detto no ma non si può fare questo perché il film io l'ho concepito ovviamente per una una viare a trecentosessanta gradi e non me lo puoi far vedere piatto eccetera invece poi Gianluca Abate ha detto ah ma è bellissimo così mi piace molto di più che quindi alla fine no questa e in realtà poi è un falso problema perché la la vera dimensione immersiva era la chiesa rupestre di Matera che era un posto incredibile quindi alla fine eh ma più immersiva della chiesa noi dobbiamo proiettare tranquillamente all'esterno quindi eh si è si è creata una diatriba anche però diciamo di carattere teorico no e non è giusto far vedere l'immagine flat l'immagine flat no perché io ho concepito il film per il trecentosessanta gradi e quindi va visto solo con lo schermo oppure va visto quello che eh diciamo eh il fruitore vede in quel momento collegato poi tra l'altro non l'abbiamo neanche adesso che ci penso non c'è stata la possibilità perché c'era un problema non potevamo mettere troppi schermi c'era un problema di vincolo in ogni caso quindi eh in realtà non ho risposto alla tua domanda ma non so rispondere cioè a a a livello teorico cioè mi piacerebbe sapere anche voi che cosa ne pensate perché è chiaro che insomma il problema anche del nascondere o meno il dispositivo cioè della ipermediazione come dicono o dell'immediatezza trasparente no che insomma che è questo bivio in realtà alcuni dispositivi vanno verso questo e altri no io penso francamente che diciamo la realtà aumentata cioè l'ologramma l'ologramma appunto nello spazio sarà forse sì sicuramente sempre più si affermerà sempre di più alla fine noi avremo delle fate morgane cioè avremo proprio delle allucinazioni ora mi chiedo ma non facciamo prima se ci prendiamo un peyote io avendo scritto su questi temi non posso che essere più d'accordo eh allora aprire il il dibattito a chiunque volesse fare una domanda che può scrivere il primo nome in chat iniziamo con Fabrizia e Anna Caterina ma vi mostrate anche oppure sono io ah perfetto quindi eri eri già in in video buonasera grazie grazie per questo intervento veramente ricco di di molti spunti che sicuramente riecheggiano da sempre no in qualche modo i temi come è stato detto anche lei all'inizio eh in tutto il nostro progetto di ricerca ma che sicuramente ci hanno offerto diversi sguardi ecco in qualche modo io ero incuriosita rileggevo ehm i punti finali no eh che lei ha appunto con cui ha riassunto più o meno ci possiamo dare del tu scusami va bene grazie e mi ero soffermata un po' sul punto dodici che mi incuriosiva perché eh chiaramente faccio questa domanda perché il mio tema di ricerca uno dei temi di ricerca o forse il filone in questo momento è proprio la questione dello spazio all'interno della realtà virtuale e quindi mi incuriosiva il punto dodici magari lo leggo velocemente solo per chi magari non ha davanti il testo l'arte immersiva può trasformare il nostro stesso spazio quotidiano nello spazio della rappresentazione no poi finisce dicendo modificando alcuni elementi eh che ci sono apparentemente familiari ma che divengono all'improvviso perturbanti come aveva accennato ma mi interessava soprattutto l'incipit di questo punto eh e così mh forse non era esattamente il focus di questo punto ma quindi eh qual è il la relazione tra uno spazio quotidiano e lo spazio che si apre se possiamo dire lo spazio aumentato immaginario che questo dispositivo dischiude e ehm non so se ci sono eh delle contaminazioni no dei modi in cui questi due spazi benché uno spazio sia all'interno del casco ci apra un mondo in qualche maniera che in cui siamo o non siamo come lei magari come affronti questo collegamento tra questi due tipi di spazi? Allora guarda io io in realtà non so neanche quando ho scritto questo punto a che cosa pensavo cioè è chiaro che pensavo sicuramente alla realtà aumentata eh ma eh l'arte emozionale può trasformare il nostro stesso spazio lo spazio della rappresentazione ovviamente beh ecco in fondo pensavo anche a un altro testo che eh quanto è bello quando stai a casa c'hai i libri allunghi la manina no perché questo è proprio il bello del cartaceo ecco a proposito del virtuale io gli ebook sono trementi solo che però c'è anche la controindicazione cioè che non trovi mai il libro che cerchi perché tu cerchi il dorso eccetera il libro che io ehm stavo cercando in realtà rimanda più allo spazio del teatro cioè la ehm la vita quotidiana come rappresentazione di Erwin Goffman perché è un libro in cui eh eh ecco in fondo anche quello è un aspetto io non so neanche se lo cito Goffman nel libro ma è chiaro che è proprio sono anche i nostri comportamenti no nello spazio ecco io per esempio non l'ho citato però in fondo mi sta venendo in mente questo perché eh si creano delle dinamiche no nella nostra vita tra il dietro le quinte come dice Goffman no e il e il proscenio anche nella vita quotidiana noi abbiamo un momento in cui eh no non ci facciamo vedere pensiamo no e ci ci prepariamo poi andare in scena eccetera no oggi per esempio noi lo stiamo vedendo moltissimo con la guerra in Ucraina cioè voi pensate no al tipo di comunicazione eh di Zelensky rispetto a quello di Putin no mi sta venendo in mente io sono eh abilissimo a non rispondere mai alle domande e poi a rispondere in tutt'altro modo però forse ci arriviamo cioè dicevo che eh anche questo è incredibile cioè noi eh a parte che noi siamo sempre di più immersi nella guerra per esempio ecco che è uno spazio quotidiano eh mai come altre guerre eh questa guerra pare che sia quella più diciamo mediatica quella che in cui davvero entriamo voi pensate forse non è neanche nata alla prima guerra del Golfo nel 1990 che noi vedevamo questo cielo di Bagdad no eh con gli infrarossi eh mi pare che tra l'altro tu tu eh Andrea insieme a ad Antonio avete affrontato anche questo argomento in 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 culture visuali no se non sbaglio tra l'altro poi anche proprio la copertina eh ma ehm ecco dicevo anche qui ci sarebbe molto da riflettere no cioè il fatto che eh noi siamo completamente immersi nella guerra e sia io che Andrea per esempio facciamo un'esperienza di eh Chris Milk del duemilaquindici cioè eh eh Claude So over Sidra no? O Sidra insomma e e per cui eh diciamo eh eh la eh la VR eh ci eh ci consente di calarci in un campo profughi come eh per esempio non abbiamo mai visto ma è chiaro che se uno va in questo momento a Kiev no? E e e filma questo da realtà virtuale poi dopo me lo porta qui me lo manda io io posso avere esattamente la stessa sensazione di lui che sta eh immerso nella nel campo di battaglia quindi è chiaro che sia la realtà aumentata che la realtà virtuale eh hanno questo potere di trasformare la la nostra realtà il nostro spazio che è diciamo familiare già voi pensate che cosa potrebbe essere no? eh una uno uno spazio che tu conosci benissimo nella tua città che viene bombardato dal e e tu ci ritorni in quello stesso spazio no? E e lo e lo trovi completamente stravolto completa ecco quella non è un'esperienza immersiva cioè perché tu rivedi quello stesso spazio però con una modificazione completa rispetto a a come lo hai vissuto prima e ritornando a questa cosa di Zelensky quest'altra cosa strana quindi da un lato noi abbiamo queste immagini che ci fanno veramente vedere i crateri delle bombe da un altro punto di vista invece abbiamo Zelensky che non sappiamo bene dov'è ma a un entourage di trenta persone che gli stanno praticamente costruendo una sorta di infinita trasmissione televisiva cioè con un'abilità nella comunicazione quindi abbiamo il massimo del realismo che sono le immagini della guerra e poi abbiamo in uno spazio che probabilmente fisico che è lo stesso lui sta in un bunker è contigo poi a un certo punto lui esce dallo studio televisivo dal bunker dove sta proprio per certificare il fatto che lui si trova ancora lì quindi si trova immerso in quella realtà ma noi vediamo il teatro di posa anche ecco anche questo sarebbe interessante ragionare su questa proprio contiguità no? Tra il teatro di posa in cui viene messo in scena qualcosa e poi apri la porta però e stai veramente nel teatro di guerra no? Dal teatro di di posa al teatro di guerra so perché ma eh quando seguo le maratone di mentana sapete la prima cosa che mi viene in mente dico ma questi stanno lì cinque ore no? Andranno a fare la pipì quindi immagino che il bagno sia proprio dietro la scena insomma voglio dire i i servizi sanitari quindi uno durante la pubblicità si alza va a fare la pipì e poi ritorna un'altra volta non so perché ecco pensavo a questa cosa no? A me mi sciocca ma perché l'artificio e il reale ormai sono cioè è sempre stato così in fondo no? Ma non so perché oggi abbiamo questa immensa capacità che ci viene dato anche nelle tecnologie di entrare e uscire tra la finzione e la e la realtà quindi ritorniamo anche a Irving Goffman infatti non so io dico tutte cose non so che c'ho oggi proprio non riesco a grazie. Ho venuto qui impreparato cioè non ho non mi sono riletto il libro quindi sono completamente nelle vostre mani. Sì ci sono altri un po' di domande insieme e poi Bruno se vuoi. Si cerco di essere breve scusate sì dai. In modo tale che possiamo rispondere un po' a tutti. Iniziamo da Anna Caterina e poi ci sono Mattia. Allora sarò brevissima ehm volevo chiederti Bruno e allora mi permetto di darti del tuo. Assolutamente. Dimmi. Allora nel nel tuo libro e anche un po' nelle cose che dicevi adesso. Ma l'hai letto quindi il tuo libro? Sì ho letto soprattutto alcune parti che insomma mi interessavano molto visto che ci sono tanti ma ti è piaciuto cioè lo hai lo hai trovato interessante? Sì soprattutto cioè mi viene un po' questa domanda da porti e diciamo mi mi ritorna soprattutto nelle cose che dicevi adesso rispondendo anche a Fabrizia eh c'è un po' una un'oscillazione e su cui volevo chiederti tra eh diciamo eh considerare l'immersività come una tendenza che c'è da sempre no che appunto possiamo rintracciare nel nella più lontana manifestazione della figuratività eh e invece poi una tendenza comunque a definirla come un fenomeno che caratterizza molto la contemporaneità. Allora siccome è una questione che anche tra di noi discutiamo molto all'interno del progetto eh insomma volevo chiederti per quale delle due in realtà opti di più. Allora no guarda allora come dicevo prima il problema lo pone eh Friedberg nel suo libro e comunque gli studi sulla ricezione dell'opera cioè il problema è che forse noi non ci siamo ci siamo sempre posti male storicamente cioè la storia dell'arte ha sempre analizzato le opere ma non le reazioni delle opere quindi eh questi legami eh immersi cioè voglio dire la 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 consapevolezza dell'immersività appunto eh e che non c'era prima cioè c'era 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 di meno probabilmente e meno stata studiata quindi è chiaro che oggi noi ci troviamo secondo me di più a ragionare con questo poi è ovvio che la eh altra cosa è il perfezionamento dei dispositivi cioè è chiaro che eh la la tecnologia c'è ci ha aiutato sempre di più negli ultimi gli ultimi quarant'anni a eh vivere in modo artificiale qualcosa che ripeto no qui appunto siamo d'accordo con Giancarlo e insomma il il peyote ti fa entrare in altri mondi insomma in poi certo fa male ma non so se fa male più il peyote oppure esporsi alla a certe nuove tecnologie quindi credo che sia un problema diciamo anche proprio di storicizzazione di certe cose no cioè noi siamo arrivati eh cioè il legge la storia dell'arte sempre lo stesso modo per eh alcuni secoli in fondo no dal basare se vogliamo anche prima cioè quindi eh è un problema culturale anche oltre oltre che sicuramente è un problema diciamo di affinamento delle tecnologie però ci sono entrambe le cose qui secondo me grazie Bruno io farei di seguito l'una dopo l'altra le domande di Margherita Andrea Rosa allora cercherò veramente di essere brevissima eh buonasera io le volevo chiedere eh rispetto alla questione eh del primitivo no che ha evocato attraverso riferimento alle caverne anche alla vita intrauterina del dell'essere umano eh mi chiedevo eh lei che tu insomma che 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 valore che valore attribuisci a questa dimensione del primitivo nel senso che eh è una da un certo punto di vista si parla certamente di eh una dimensione arcaica iniziale però d'altro lato sia nella nella caverna come eh nella caverna istoriata di Lascaux di Chauvet si tratta ovviamente di ambienti estremamente stratificati complessi e lo stesso sono quelle lo stesso è la caverna intesa sia appunto come eh come utero quando vista come eh come metafora no del della della metacinematografico quindi era questa insomma la domanda è chiaro che appunto la caverna come eh metafora del cinema è una cosa appunto mai insomma eh inflazionatissima abusata lo sappiamo insomma no eh semmai le due cose ma anche su questo forse Andrea si sarà già espresso è la secondo me è la coincidenza proprio del del fatto che sia il mito della conoscenza e cioè eh platonico della della caverna sia il mito delle origini della pittura che è quello di Plinio il vecchio no? Cioè della figlia del vasaio che deve eh disegnare i contorni dell'amato che va in guerra no? Eh disegnare tutta la guerra per preservarlo per sempre beh entrambi si basano eh sullo stesso dispositivo che l'ombra no? Cioè quindi da un lato se è curiosa questa cosa no? E entrambi poi fanno voglio dire eh c'è anche in entrambi i miti c'è il fatto non di farlo su un su una superficie insomma sul direttamente sulla parete quindi eh il fatto che l'origine della pittura e quindi poi anche l'origine del cinema di fatto quindi diciamo la creazione di un'immagine di una rappresentazione e l'origine poi del della conoscenza abbiano iconograficamente gli stessi tratti poi ci sarebbe moltissimo da dire io ultimamente so tra l'altro insieme ad un artista che si chiama Pablo Chaueren stiamo girando anzi abbiamo finito un film eh sul problema di Neanderthal no? Cioè si sapeva cioè si pensava che Sapiens fosse eh insomma cioè il gradino più evoluto in realtà l'uomo di Neanderthal che noi spesso insultiamo cioè pensiamo che sia inferiore era addirittura più evoluto del Sapiens solo che hanno convissuto forse mille anni ma quello che è interessante di Neanderthal è che si prendeva non solo cura dei eh per esempio delle persone anziane eh perché hanno fatto dei ritrovamenti eccetera ma eh che aveva un culto per il seppellimento cioè mh aveva eh un ordine simbolico delle cose più sviluppate il senso della morte eccetera perché addirittura i morti durante il Neanderthal venivano seppelliti su un pigmento ocra quindi voi pensiamo stiamo parlando di eh ottantamila centomila anni fa e di più quindi eh tutto questo io lo trovo forse non c'è tenente con l'immersività ma io lo trovo affascinante perché noi noi dovremmo più studiare eh anche questa dimensione no del del passato del nostro passato e probabilmente scopriremo ci renderemo conto di un sacco abbiamo Andrea e poi Rosa come domande Andrea te la parola grazie grazie molto io rapidissimamente mi richiamo le tue due prime tesi eh che anche tu prima hai ripreso con noi per chiederti eh visto che lì ehm fai riferimento alla questione dell'esperienza no l'arte immersiva esperienziale l'arte immersiva in quanto esperienza dato che anche noi ci introchiamo spesso su questo termine diciamo anche che l'utilizzatore di realtà virtuale non è un osservatore ma è un experience però poi ci viene anche il dubbio diciamo ma in fondo è un'esperienza anche stare di fronte a un troppo la fornice ed è un'esperienza anche quella che stiamo facendo noi adesso no e allora ehm mi ero domandato e ti domando se ti sei imbattuto in questa problematicità del concetto di esperienza che da un lato viene così spontaneo usare e dall'altro però proprio perché è così generale finisce per andare bene per tutto anche per quando non siamo dentro in un'esperienza immersiva beh vabbè la prima cosa che mi viene in mente è proprio l'esperienza estetica cioè è la definizione esperienza estetica per cui no bisogna immergersi nella cosa per coglierla e allo stesso tempo però poi bisogna allontanarsi perché altrimenti non non sia quel necessario distacco critico cioè se uno è troppo coinvolto ecco questa tra l'altro è una cosa a cui accendo nel libro perché secondo me è può essere un problema no il fatto che quando tu sei completamente immerso forse non hai poi a certo punto non quantomeno perdi quei parametri cioè quelle quel distacco critico che comunque sarebbe necessario no sul sul termine esperienza beh certo è chiaro che anche di fronte a un quadro ne facciamo un'esperienza e beh il concetto di esperienza certo si usa sempre di più no però ecco quello che io io posso dire in quanto per esempio studioso del cinema sperimentale e che a me sembra che c'è sperimentale abbia anticipato tutto questo proprio perché eh se noi abbandoniamo la narrazione allora abbiamo subito secondo me un'esperienza cioè io trovo ecco su questo forse potremmo diciamo approfondire meglio no cioè in fondo quando tu non hai una più una storia da seguire quindi un personaggio eh in cui identificarti una storia che pure anche lì c'è una questione no ma allora se tu ti identifichi nel personaggio allora già dovrebbe essere qualcosa di immersivo no però è anche vero che perché anche tu nel tuo libro fai il sollevi la questione no di fronte alla sala allo schermo nella sala cinematografica comunque c'è un distacco c'è un problema di identificazione che è diverso rispetto a quando tu indossi la realtà virtuale semplicemente perché quando tu indossi la realtà virtuale sei tu il personaggio cioè sei tu che sei completamente dentro eh ecco ma eh il il quando io vedo da Art of Vision cinque ore di immagini astratte che si ripetono però con delle varianti di stand breakage io 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 l'ho visto tutte cinque le ore dopo la terza ora tu tu veramente perdi cioè entri in un flusso no fai un'esperienza di 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 Kundalini e e quindi il cinema il cinema sperimentale l'ho sempre trovato che sia veramente esperienziale poi rispetto al eh appunto al quadro perché noi potremmo sempre eh dire che nell'arte ne facciamo delle esperienze sì certo questo è è vero ma ci ci sono evidentemente delle opere e comunque delle situazioni in cui noi fruiamo l'opera che davvero ci consentono di usare più la parola hm diciamo cioè quando io io vado al cinema no non faccio un'esperienza io vado a vedere un film narrativo non faccio un'esperienza quando invece sono immerso in eh un film di Jordan Belson che è un film cosmico come Allure come Samadhi allora lì io faccio veramente un'esperienza quando io sto nella nel movie drum di anche se non è del 1966 c'è lo stesso anno in cui sono andato io ma non ho mai avuto la la possibilità di di entrarci beh io lì faccio veramente un'esperienza perché io sono avvolto dal dall'immagine da venti proiettori quindi no io trovo che secondo me c'è ancora una una cioè la parola l'esperienza nel campo dell'arte nel campo dei media se non può essere ancora usato in modo specifico rispetto a però non lo so l'ultima domanda di Rosa eccomi buonasera sarò anche io molto breve e intanto grazie per la presentazione io volevo fare una domanda su eh gli effetti speciali che è una parte che a me ha colpito particolarmente del del volume e soprattutto sono stata colpita dal fatto che nel volume si parla di effetti speciali come una modalità per accrescere il senso di espansione del cinema e quindi anche del senso il senso di presenza di immediatezza scusami io tra l'altro ho fatto l'esempio comunque tanto voi avevate letto il mio libro ma io non avevo capito che voi conosciate il libro sennò non non vi non tediavo con tutta sta cioè tanti altri spettatori per cui ah vabbè ok scusate bene sono altri spettatori allora spero di essere abbastanza chiaro no eh scusa ti interrompo Rosa perché alla fine io ho parlato del del matte painting e del del glass shot ma non ho spiegato cos'è cioè semplicemente che eh si si metteva davanti alla macchina da presa o un vetro nel caso del glass shot eh con alcuni elementi dipinti oppure nel caso del matte painting un po' esattamente quello che fa Brunelleschi cioè del dei modellini delle sagome in modo da integrare eh eh l'immagine cioè tutto questo era un espediente per risparmiare moltissimi soldi perché altrimenti uno per mostrare che ne so Babilonia avrebbe dovuto ricostruirla completamente in studio per cui c'è uno degli esempi che avrei potuto mostrare era questa panoramica per esempio della Cleopatra di Manchevici e sessantatre in cui ehm Nathanson ha dipinto parte su sulla sulla parte superiore di questo vetro viene messo davanti alla macchinata pesa tra l'altro c'è anche un movimento di macchina per cui questo tipo di effetti si eh potevano fare anche muovendo la macchinata pesa eh diciamo ha integrato la scenografia eh la veduta o la scenografia reale costruita a Cile città con eh qualcosa di inesistente facendo risparmiare alcuni milioni semplicemente per un'inquadratura scusa ma ti ho interrotto cosa che ti interessava ma anzi in realtà è un chiarimento veramente interessante niente per riprendendo la domanda su gli effetti speciali sento uno strano eco spero che non che riusciate a sentirmi bene ma riprendendo la mia domanda sugli effetti speciali mi se mi ha colpito molto il fatto che nel volume se ne parli come una modalità per accrescere gli effetti di presenza quando in realtà la mia domanda è non è piuttosto il contrario cioè non è che mh utilizzando la 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 CGI gli effetti speciali si si va invece a rendere il medium più opaco e quindi più presente quasi a ad accrescere la e quindi ai di inibire se si vuole la l'immersività cioè non so vengo da una dimensione in cui il per esempio rispetto al medio all'immagine fotografica invece il digitale cioè la manipolazione cioè l'effetto speciale viene un po' letto come ritocco e quindi come va come un elemento che opacizza il mezzo stesso al posto di renderlo presente eh un trasparente quindi immediato eh sì appunto lì ritorniamo alla solita questione è chiaro che se noi pensiamo eh che sia più immersiva l'immediatezza trasparente certo è chiaro eh beh è ovvio che l'ipermediazione eh sta all'effetto speciale cioè quando io comunque vedo eh ma anche lì però perché bisogna eh capire se l'effetto speciale è un effetto per cui io io lo sento in quanto tale in quanto artificio oppure se l'effetto speciale mi crea effettivamente un'illusione per cui io non riesco a è la stessa cosa per cui quando noi ci avviciniamo ad un quadro del fotorealismo che non riusciamo a comprendere se quello è dipinto o è eh una fotografia molto spesso è un dipinto che simula perfettamente una fotografia e questa ambiguità dell'immagine è ci crea un effetto perturbante esattamente proprio quindi particolarmente immersivo perché noi cerchiamo proprio di avvicinarci il più possibile al quadro e quando non riusciamo a eh percepire la differenza psicologicamente abbiamo quasi una no? Cioè non trovi che si crea questo effetto di cioè come se si creasse un cortocircuito perché poi alla fine il problema è sempre quello dell'arte è è è la questione del realismo noi come la eh voltiamo e come la giriamo come si dice a Napoli una volta è come a giro alla fine eh noi dobbiamo sempre cioè c'è sempre la questione del realismo che noi cacciamo dalla dalla porta ma di entra dalla finestra cioè ciò che quindi eh il cinema di di effetti speciali per esempio che cerca di dare eh una dimensione realistica aggiuntiva eh tutto sommato io l'ho trovato sempre abbastanza stucchevole no? Cioè perché tu devi fare cioè mentre invece eh c'è un cinema eh allora è è più logico me liess no? Cioè noi dovremmo ritornare al fatto che l'effetto speciale deve comunque avere la funzione di fornirci di crearci qualcosa che altrimenti non non ci potrebbe essere nella realtà no? Però non so perché sto facendo questo discorso eh no non lo so non non so rispondere bene a questa cosa io non mi ricordo manco dov'è che parlo degli effetti speciali cioè nella nella parte sul sul glass shot nel capitolo sette il capitolo sette la parte su in cui si parla di andare oltre lo schermo e quindi l'effetto speciale come ah sì ma ma guarda all'espansione può sembrare che io stia stia facendo una posa ma io veramente non non mi ricordo ah sì vabbè comunque penso che sì parlo del Napoli oltre lo schermo sì ma non lo so guarda non so tanto rispondere a queste domande non sono eh ma ad uno fra poco dobbiamo chiudere infatti io devo far mangiare anche mia figlia perché mia moglie sta in Romania grande eh ti ringraziamo molto non è rumena ma sta sta facendo un campo profughi con i bambini l'Ucraina vabbè ok allora no eh io comunque scusate vi voglio ringraziare perché in questo mio stato confusionale spero che comunque ci siamo detti le cose spero insomma cioè sarei voluto essere un po' più illuminante francamente anche rispetto poi al libro ma comunque visto che c'è qualcuno che non la che non l'ha letto non so quanto eh potrà aver capito dalla mia introduzione e e niente spero di di avere delle altre occasioni per confrontarci su questo argomento e poi leggere anche quello che scriverete voi ovviamente poi io il tuo libro Giancarlo adesso me lo vado a leggere perché me l'hanno mandato qualche due settimane fa e quindi adesso me lo leggerò leggerò senz'altro e poi voglio leggere anche i risultati di questa ricerca grazie Bruno non mancherà senz'altro occasione ringrazio anche tutti per essere stati con noi in questa presentazione e ci vediamo eh fra due settimane quindi grazie Bruno e ci vediamo a Milano però eh quando vengo va bene volentieri ciao grazie ciao 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 tutti grazie ciao grazie